Buongiorno a tutti, bentornati su bioblu.com e bentornato Nino Galloni. Buongiorno Nino. Buongiorno. Allora per i pochi sproveduti che non sapessero chi è Nino Galloni, ma penso che ormai non resti più nessuno, lo ricordiamo. Innanzitutto andatevi a vedere i famosi ormai mitologici video Il funzionario oscuro che fece paura a Cole e perché ci hanno deindustrializzato proprio pubblicati su questo canale, Bioblu, tantissimi anni fa dove lui riassume la situazione italiana in maniera magistrale e poi ricordiamolo Nino Galloni è stato ex direttore generale del ministero del lavoro nonché funzionario del ministero del tesoro e è un economista molto apprezzato che gira molto Allora oggi parliamo Nino del reddito di cittadinanza Innanzitutto mi piacerebbe molto che tu ci ricordassi che cos'è come funziona, quali sono i suoi capisaldi e che poi arrivassimo a parlare del bacino di utenza previsto dei costi iniziali in quale fase attuale di realizzazione del progetto siamo dei benefici previsti in termini di occupazione facci un quadro generale per chi non sa bene poi in effetti su quali capisaldi poggia questa teoria Allora il reddito di cittadinanza è una cosa molto diversa rispetto alla normativa di cui oggi si parla sotto questo titolo perché il reddito di cittadinanza come dice la parola è un qualche cosa che viene destinato a tutti i cittadini in quanto tali L'unico paese di cui ho visto come funziona è lo stato dell'Alaska che distribuisce i dividendi dell'industria dell'estrazione petrolifera e si parla di 220 dollari circa a persona circa 200 euro insomma Quello che è stato invece varato da poco in Italia grazie all'attuale governo è un ammortizzatore sociale non è un reddito di cittadinanza tant'è che è destinato solamente alle fasce più deboli della nostra economia Noi abbiamo una insufficiente cultura degli ammortizzatori sociali perché me ne sono reso conto nei miei dieci anni di amministrazione attiva come direttore generale al Ministero del Lavoro e poi successivamente sempre rimanendo nella galassia relativa che in pratica gli altri paesi hanno sempre avuto dei sistemi di ammortizzazione sociale molto più efficaci L'unico che ha funzionato da noi alla grande è stata la Cassa Integrazione di cui io appunto sono stato responsabile per tanti anni Il problema del reddito di cittadinanza è se è il canale migliore per veicolare quel cambiamento verso il maggiore sviluppo della domanda interna che è necessario per uscire dal dramma delle politiche economiche europee notoriamente recessive sia sull'occupazione sia sui salari per le tante ragioni che abbiamo descritto in varie situazioni Personalmente essendo favorevole ad una moneta parallela, sovrana, non a debito che non è contemplata dai trattati europei perché circolerebbe solo in Italia e sarebbe emessa dallo Stato quindi in pratica sarebbero statonote e non banconote di cui si parla nel trattato di Lisbona ritengo che darsi da fare per l'ambiente, le infrastrutture, la cura degli anziani il recupero del patrimonio esistente, la valorizzazione di tutto il nostro immenso tesoro di immobili, cose archeologiche eccetera eccetera creerebbe tanti di quei posti di lavoro in più che chiaramente non avremmo bisogno di un vero e proprio reddito di cittadinanza però io oggi vorrei affrontare un ragionamento un po' diverso dal solito perché mi ha colpito come cittadino e come economista una questione, ogni giorno se voi seguite un po' di televisione, giornali, riviste non solo specializzate ma anche normale appare, viene raccontata una grande scoperta spesso sono ricercatori italiani che hanno scoperto cose straordinarie che si possono fare in campo agricolo, in campo energetico, in campo manifatturiero per cose della salute eccetera cose che veramente ci farebbero carburanti alternativi macchine che vanno senza bisogno di carburanti tutte cose straordinarie che ci farebbero risparmiare tantissimo e guadagnare tantissimo in un certo senso guadagnare a noi cittadini che paghiamo tasse e assicurazioni e questo e quell'altro l'energia, le bollette eccetera quindi non c'è solo la disoccupazione umana c'è anche la disoccupazione delle tecnologie cioè ci sono oggi a disposizione dell'umanità delle tecnologie straordinarie che risolverebbero tutti i nostri problemi di inquinamento di trasporti, di alimentazione eccetera ma non vengono applicate non riescono a trovare la dimensione economica e allora mi sono domandato ma per caso è insufficiente la domanda e questa è una parte della risposta l'altra parte della risposta purtroppo e l'ho sperimentato faccio l'esempio di Roma perché è la capitale d'Italia continuiamo a naufragare nei rifiuti quando invece queste cose sono risorse e bisogna smetterla di chiamarli rifiuti noi potremmo processarli in modo assolutamente ambientalistico cioè senza emissioni di cose nocive e toglierli dalle strade togliere camion, cassonetti, discariche eccetera e avere energia elettrica gratis perché non lo facciamo? non lo facciamo perché ci sono delle lobbies e degli interessi che contrastano ma c'è anche come accennavo prima ed è questo il punto una problematica di natura economica cioè la domanda effettiva cioè il reddito nazionale non è in grado di costringere queste tecnologie ad essere applicate questo è quello che io voglio risolvere allora per l'altro scusa se ti interrompo sì no no perché però è anche una vecchia battaglia il Movimento 5 Stelle quella di recuperare i rifiuti assolutamente sì stiamo parlando dell'economia circolare però per esempio la Raggi non ha fatto abbastanza in termini di tutto il problema delle immondizie eccetera eccetera sono rimaste tali sono state vengono processate come venivano processate dalle precedenti amministrazioni non si è data da fare per applicare queste grandi tecnologie allora una strada potrebbe essere quella di prendere la tematica il toro per le corna dal lato del reddito invece che dal lato della proposta politica visto che quest'ultima è carente allora ho calcolato che in pratica questa mancata utilizzazione di tecnologie straordinarie ci porta a 300-350 miliardi di mancata crescita però allora come fare per ottenere questo risultato abbiamo cioè un potenziale di 350 miliardi in più lira più lira meno allora se noi dessimo il reddito di cittadinanza il vero reddito di cittadinanza cioè da 300 a 400 massimo 500 euro al mese a tutti i 60 milioni di residenti in questo in questo paese noi costringeremmo la domanda effettiva che è la trasformazione di quella potenziale attraverso la moneta parallela non a debito quindi non è che crescerebbe poi il debito pubblico di 300 miliardi più gli interessi ma andremmo anzi ad avere un avanzo perché questa moneta parallela ha lo stesso segno algebrico delle tasse quindi si aggiungerebbe alle tasse ma metteremmo nelle tasche di tutti quanti quei 300-400 euro al mese a tutti quanti ripeto poi possiamo in sede politica dire che sono esclusi quelli più ricchi eccetera eccetera non cambia nulla sostanzialmente perché poi alla fine quei ricchi lì almeno quelli che lo sono per dichiarazione dei redditi che sono il 5% di quelli che fanno la denuncia dei redditi non c'entrano niente non ci cambiano il dato macroeconomico ma è importante dire che ogni persona ogni cittadino perciò reddito di cittadinanza avrebbe 3-4-500 miliardi euro al mese in più quindi può continuare a lavorare può continuare a oziare può continuare a fare quello che fa le rendite quello che sia a studiare ma studiare a fare quello che fa ma questo maggior reddito entrando nel mercato come spesa nei vari comparti stimolerebbe quella introduzione quel miglioramento tecnologico che corrisponderebbe a quello che è stato l'esborso in moneta in moneta parallela questo modo non solo non si avrebbe inflazione ma si avrebbe un acuto miglioramento ambientale economico e sociale del paese e quindi io proporrei di studiare questo reddito questo vero reddito di cittadinanza cioè per tutti escluso se volete quel 5% di sedicenti ricchi in base alla dichiarazione dei redditi in modo di poter stimolare l'introduzione di quelle straordinarie tecnologie che oggi sono già pronte per essere applicate in quasi tutti i comparti dell'economia che fanno la differenza fra un paese pulito e ordinato e un paese che non lo è senti tu hai parlato durante la tua esposizione più volte di vero reddito di cittadinanza reddito di cittadinanza si deve intendere solo quella dividendo a tutti i cittadini in quanto tali è una visione nuova dell'economia quindi quello dei 5 stelle non sarebbe un reddito di cittadinanza si chiama così però quello fatto dai 5 stelle non è un reddito di cittadinanza una proposta simile uguale compatibile con quella che ho fatto io è l'unico che l'ha fatta è stato il Coem di Maurizio Sarlo che ha proposto un diritto di cittadinanza cioè con gli stessi principi in modo che ognuno avrebbe un reddito sufficiente per vivere io invece sono partito dalla disoccupazione tecnologica per modificare le tecnologie in senso pro ambientalistico e pro occupazionale stimolandole attraverso un maggior reddito dei cittadini che lo vanno a spendere chiaramente perché la moneta parallela tra l'altro non è adatta al risparmio è adatta alla spesa a circolare e poi a pagarci eventualmente le tasse quindi circola più velocemente dell'euro e conseguentemente viene spesa e stimola di più la domanda che non una moneta che possa venire tesaurizzata o risparmiata ma come si risponde alle critiche per esempio del neoliberista di turno che ti dice si aspetta che il reddito di cittadinanza incentiva la pigrizia adesso ci arrivo perché devo prima dire ho già detto all'inizio che l'attuale cosiddetto reddito di cittadinanza è un ammortizzatore sociale che sta funzionando abbastanza perché sicuramente chi lo riceve ne ha un beneficio ed è più di un milione di persone non è poco ma che chiaramente non risolve i problemi queste forme che non sono reddito di cittadinanza ripeto ma sono ammortizzatori sociali quindi aiuti anche di assistenza ai più poveri sono meccanismi di emergenza finché non si crea occupazione ma in altre occasioni ho sostenuto che se noi riuscissimo a coprire il gap che esiste tra fatturato e costo che il costo è più alto del fatturato nei comparti dove l'occupazione può crescere creeremo 7-8 milioni di posizioni lavorative quindi chiaramente non avremmo bisogno del reddito di cittadinanza probabilmente il reddito di cittadinanza ci può servire per arrivare a regime per arrivare a regime ora la critica dei liberisti è quella che se attua alla gente gli dai soldi senza una controprestazione lavorativa li disincentivi a faticare e c'è un fondo di verità in questa considerazione ma noi oggi sappiamo che la crisi economica non è più come un tempo dovuta alla mancanza che ne so una volta si raccoglieva poco grano poca farina poco pane la gente assaltava i forni per mangiare e allora c'era la crisi economica questa era la crisi economica una volta perché mancava il cibo mancavano i prodotti mancava tutto cioè c'era scarsità dopo gli anni 60 dagli anni 70 in poi invece abbiamo il contrario abbiamo una sovrabbondanza noi oggi distruggiamo buttiamo via il 43% di quello che produciamo ma c'è la crisi economica perché c'è la crisi economica perché manca il reddito nelle tasche della gente quindi la motivazione del reddito di cittadinanza è il sostegno non tanto alle persone ovviamente ovviamente ma al sistema economico che non si può reggere se non c'è un incontro fra reddito e prodotto che poi il prodotto sia superiore al reddito questo lo sappiamo ma oggi abbiamo una crisi perché il reddito è troppo inferiore al prodotto e quindi abbiamo anche uno spreco e questo spreco fa sì che non ci sia un sufficiente incentivo ad introdurre tecnologie più efficaci e più rispettose dell'ambiente questa è una ipotesi di lavoro che credo però possa interessare tutti quanti altra materia che tu prima hai citato nella domanda è il salario minimo garantito ecco il salario minimo garantito è una misura che è stata applicata diverse volte sempre con esiti disastrosi è il salario minimo garantito che provoca l'effetto di cui i liberisti si vantano per dimostrare che il reddito di cittadinanza non funziona il reddito minimo garantito significa che ogni persona non può avere meno di facciamo conto 1500 euro quindi io vado in fabbrica guadagno 1000 euro 500 me li dà lo Stato guadagno 900 euro 600 me li dà lo Stato ma presuppone di avere un lavoro questo disincentiva se non hai lavoro te li dà tutti lo Stato questo disincentiva disincentiva l'impresa la quale si mette d'accordo con i lavoratori per sottopagarli come accade in Inghilterra quando fu tentata la misura per sottopagarli perché tanto tutto il resto paga pantalone il reddito minimo garantito non funziona un'altra cosa che non c'entra ancora meno con quello che stiamo dicendo oggi e che invece è una misura molto interessante di cui hanno parlato anche i 5 Stelle è il di Maio è il reddito minimo orario il reddito minimo il salario minimo orario quello sì quello ha una certa importanza perché costringe le imprese a fare una selezione del personale in modo di avere un maggior guadagno per unità di occupazione mi spiego meglio si perderanno dei posti di lavoro ma la gente guadagnerà di più e si introdurranno delle tecnologie più avanzate perché oggi noi ci siamo andati a ficcare nella situazione dei paesi arretrati che ai tempi dei tempi non c'era la democrazia non c'erano i sindacati non c'erano i lotti operaie i salari hanno bassi e le imprese non avevano incentivo a introdurre le innovazioni tecnologiche conseguentemente rimanevano arretrati invece nei paesi che c'erano le democrazie c'erano i sindacati c'erano le lotte operaie i salari erano alti e le imprese avevano convenienza a introdurre le tecnologie le quali da una parte facevano licenziare un po' di gente che poi trovava lavoro da qualche altra in qualche altra occasione ma faceva sì che questi paesi continuassero a progredire ad essere paesi industrializzati noi siamo sempre stati fra questi paesi più industrializzati rischiamo di perdere questa locomotiva perché non introduciamo abbastanza tecnologia quindi io credo che un aspetto fondamentale per capire ciò di cui stiamo parlando sia uno sprone ad acquisire tecnologie più avanzate anche rendendo più costoso il lavoro paradossalmente ma imponendo alle imprese di introdurre queste tecnologie dall'esterno lo facciamo attraverso un vero reddito di cittadinanza questo credo sia un percorso importante in cui la macroeconomia dà veramente un aiuto all'economia senti una curiosità personale viviamo in un mondo che è sempre più popolato qualcuno dice sovrappopolato questo non lo so e in un mondo contemporaneamente come tu giustamente citavi poco fa in cui le tecnologie sono sempre più importanti e molti sostengono che presto sostituiranno una gran parte del lavoro umano in questo scenario secondo te ha un senso ancora parlare di piena occupazione e l'etica del lavoro che a un certo punto insomma si è imposta anche in ambito protestante che ha diciamo modificato la struttura della società imponendo la visione secondo la quale l'uomo che è davvero tale con la U maiuscola è l'uomo che si alza la mattina alle 7 e tutto il giorno lavora fino a mezzanotte magari anche senza il tempo di pensare all'altro magari neppure alle questioni sostanziali dell'esistenza questa etica del lavoro in questo scenario che ho descritto prima insieme alla piena occupazione che è stata da sempre un sogno magari di una parte dell'economia ha ancora un sesso oppure tutto deve essere rivisitato diciamo qualcosa deve essere rivisitato andiamo con ordine allora la popolazione mondiale non ci sono mai stati tutti questi miliardi di umani nel pianeta ma oggi abbiamo le tecnologie per soddisfare tutta questa gente il problema è che ci sono delle forze che sono influenti nella finanza e nella politica le quali ritengono che l'umanità dovrebbe ridursi come numero ma questo è sbagliato perché in realtà noi dobbiamo fare delle ottenere delle tecnologie applicare perché ci sono delle tecnologie che ci consentono di vivere tutti quanti meglio senza inquinare è vero passo al secondo aspetto che queste tecnologie fanno ridurre la quantità di lavoro necessario per unità di prodotto e in generale la quantità di lavoro a saldo macroeconomico complessivo abbiamo da una parte la possibilità di ridurre l'orario a parità di salario anche se i percettori di profitto non sono molto d'accordo però c'è questa possibilità ma soprattutto dobbiamo capire che i comparti che producono beni materiali sono destinati alla decrescita soprattutto in termini occupazionali dove invece può crescere l'occupazione dobbiamo risolvere il problema che il fatturato è più basso del costo allora come si fa a risolvere il problema perché qui sta la questione il problema è che noi dobbiamo pensare che nelle produzioni immateriali quindi lavori creativi l'arte il recupero del patrimonio la cura dell'ambiente in tutte queste attività dove in Italia abbiamo stimato ci sono 7-8 milioni di posizioni lavorative non dobbiamo più darci l'obiettivo della piena occupazione che è un obiettivo dentro il paradigma capitalistico che tutto sommato ha funzionato solo in modo ideologico dobbiamo invece darci un altro obiettivo che è quello del pieno soddisfacimento dei bisogni della società cioè noi dobbiamo ridare alla politica il primato la politica deve definire quali sono i bisogni della società dopodiché l'economia viene con i suoi strumenti tecnologici e monetari da la possibilità a tutti di fornire quei beni e quei servizi di cui abbiamo bisogno quindi se nei comparti diciamo che producono beni materiali c'è la decrescita nei comparti che producono beni materiali ci deve essere una grande crescita e dobbiamo affrontare questa tematica ribaltando il paradigma cioè passando dal paradigma capitalistico del profitto quindi del fatturato che supera il costo di una percentuale pari o superiore a quella del rendimento delle attività finanziarie a un paradigma moderno in cui invece il bisogna soddispare tutti i bisogni della società e si soddispano come i bisogni della società di tutela dell'ambiente delle persone e del patrimonio esistente ma col lavoro ovviamente non è che avviene da solo se io devo fare la manutenzione dell'argine di un fiume ho bisogno di lavoro ma non parto dall'idea che devo dare lavoro a quelli che vanno a fare la manutenzione del fiume ma dal fatto che c'è una necessità sociale assolutamente non eludibile che è rifare l'argine del fiume urgentemente conseguentemente dovrò pagare chi viene a fare la manutenzione la sistemazione dell'argine del fiume va bene allora per chiudere il reddito di cittadinanza ideale per Nino Galloni quale? vogliamo dare una ricetta al governo? allora innanzitutto dobbiamo avere chiarito che si può introdurre moneta parallela non a debito se no non si capisce niente poi come misura di emergenza per sostenere la domanda anche con la finalità di rendere più necessaria la introduzione di tecnologie avanzate un reddito di cittadinanza vero e proprio cioè destinato a tutti i cittadini va molto bene stiamo parlando di 300 400 massimo 500 euro a persona che corrisponde a quello che io ho stimato quei 300 350 miliardi che perdiamo perché non introduciamo tecnologie più avanzate disponibili economicamente necessarie rispetto a quelle disuete ormai di una volta faccio sempre esempio dei rifiuti basta cassonetti basta rifiuti basta discariche basta camion dobbiamo avere energia elettrica dobbiamo avere gente che porta le sue risorse le conferisce quindi non deve pagare tasse anzi ottiene ottiene energia elettrica sin gas e quant'altro a regime però la cosa importante è come ho già detto modificare il paradigma e passare alla piena soddisfazione pieno soddisfacimento dei bisogni della comunità dei bisogni della società per arrivare a questo risultato parliamo di ambiente parliamo di cura delle persone di recupero del patrimonio esistente ci vuole il lavoro e secondo te oggi nel scenario politico c'è qualcuno che può perseguire queste logiche? ma diciamo che sta crescendo una pattuglia minoritaria di politici che sono sensibili a queste problematiche e la cartina di tornasole quando si parla di moneta parallela non ha debito è una battaglia che è appena cominciata ma oggi i tempi i sistemi di comunicazione possono essere tali di farla precipitare faccio un esempio molto banale se le principali reti televisive le quattro principali reti televisive che per esempio mi hanno tante volte ospitato nel passato per parlare di queste cose continuassero a ospitare economisti politici e personaggi che parlano di questo la gente ne sentirebbe un po' di più ecco invece in questo momento abbiamo solo più blu va bene va bene grazie Dino Galloni alla prossima ciao